e ora abbiamo il comandante lui cerca di fare un discorso ma quale discorso? per i suoi camerari comunque sappiate che sono stati i due anni più buttati nel cesso della mia vita mi ha giusto mi ha giusto mi ha giusto i due anni più buttati sempre ti capisco ti capisco invece di studiare passate tempo su un gioco di merda più merda di voi poi in blank ma che in Italia il copo il copo di nob ti capisco ti capisco l'hammer che si chiamano hacker si definiscono hacker perchè hanno trovato delle shit su internet magari anche usando yahoo yahoo ma poi le mappe giapponee ma che schifo e abbiamo anche vinto che merda uccidetemi vi prego ahahahahah 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 sto da due anni a giocare su sto gioco di merda e sto ancora a 3b e 2 punti lì del calcio non è possibile non è possibile ehh ahahah 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 ahha ti capisco che eschiate Spirate ancora! Spirate ancora, eh eh no! Devo ricordare che cominci prima a respirare a calcetto Allarga le braccia No ma... Perché vuoi non parlare dei dinosauri della modalità Dino? Aspetta... Che guai... Che guai... Non c'è domina che mi fanno male Ma da quando in quai i dinosauri esplodono? Basta di qua la palla di spira Ma... Ma perché le maschere con la faccia di tigre? I... I cappellini di babbo e la traghetta ti prendono Ca... Ca.... Ma che c***o? O me che c***o? Po' che c***o? Ho females igility dietro una maniera Mi fa male la testa Eh 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 eh... Ma chi perché ti sentivo rec bizimkbet Se non capisco più un kite, dove sono? Che cosa fa? Cazzo vuoi? Beh raga ve l'ho detto, è stato essere subendo il suono, via!